Vincenzo Di Bella 4 a 0 contro il Pasteria, una Costiniana che si è rimessa di nuovo in carreggiata. Sì, buonasera a tutti. Intanto la Costiniana si è rimessa in carreggiata dopo una partita un po' sofferta, in quanto a livello fisico non siamo al massimo, però l'importante era vincere. Siamo ancora in corsa e fino alla fine cercheremo di raggiungere l'obiettivo minimo che erano i play-off. Molte squadre che non hanno obiettivo, come dici tu, mollono un po', la Costiniana potrebbe essere il momento giusto per inserirsi in questi play-off? Non sono convinto di questo perché oggi, come tutti abbiamo visto, chi ha visto la partita nel primo tempo abbiamo sicuramente fatto bene, abbiamo sbloccato la partita ma non siamo riusciti a chiuderla e specialmente nella prima fase del secondo tempo ci ha messo molto in difficoltà il Pasteria. Quindi in qualsiasi squadra, perché ancora il campionato è lungo e ancora deve finire, in qualsiasi squadra cercherà di giocarsi alla fine alla fine, anche se non ha un obiettivo ben preciso, un obiettivo ben definito perché magari non possono più fare play-off, però è anche giusto onorare il campionato e quindi continuare a giocarsela fino alla fine, sicuramente non sarà facile. L'attacco della Costiniana però si è svegliato, visto che hanno segnato quasi tutti. Sì, un attacco che nelle ultime partite sta andando a segno, tranne la partita scorsa di mercoledì, recupero con il Pisano, stiamo giocando diversamente, stiamo cominciando a fare gol e specialmente stiamo cominciando a prenderne un po' meno, che forse era questo il nostro problema, più che fare gol il problema era non prenderli. Quindi stiamo andando un po' meglio, diciamo che non segna un unico attaccante, ma segna più di uno, quindi questo è sicuramente un aspetto importante e una cosa che ci lascia ben sperare per il futuro. In questo rush finale di campionato, secondo te quanto conta l'esperienza di poter accedere agli obiettivi che ogni squadra si è prefissata? Io sono sempre stato convinto che l'esperienza dalla prima all'ultima giornata di campionato, specialmente nelle partite più importanti è tutto, è tutto perché la gestione della palla, la gestione del gioco, la gestione di alcune situazioni, di appunto alcuni veterani è fondamentale. Io sono sempre stato dell'idea che sicuramente i ragazzi danno quella velocità e quel brio in più, però sicuramente l'esperienza è fondamentale in qualsiasi categoria e quindi in qualsiasi campionato. Grazie a tutti!